Domani faranno sentire la loro voce con un sitino dinanzi all'ingresso dell'Assemblea regionale siciliana. Loro sono i componenti dei comitati ufficiali e gli amministratori di Gela, Piazza Almerina e Niscemi, città che hanno scelto di abbandonare la loro provincia e di entrare a far parte della città metropolitana di Catania. Finora, nonostante il referendum e la decisione assunta dai vari consigli comunali, tutto è rimasto com'era. E l'indice accusatorio è puntato all'indirizzo del governatore della Sicilia, Rosario Crocetta. Crocetta dice una serie di fesserie, mente sapendo di mentire, non può proporre oggi un nuovo libero consorzio quando le regole per la costituzione dei nuovi liberi consorzi sono le stesse di quelle di due anni fa e in Sicilia non è nato nessun nuovo libero consorzio. Ma aggiungo di più, come si fa a contattare il comune di Caltagirone che al momento è commestriata e non ha nemmeno un'aggiunta né un consiglio comunale per poter deliberare? Questo puzza di bruciato, ovviamente Crocetta dice questo per farci perdere altri 6-8 mesi e alla fine di tutto farci permanere con Caltanissetta e non creare né un nuovo libero consorzio né aderire alla città metropolitana di Catania. Conosciamo molto bene Crocetta, lo conoscono tutti i nostri concittadini, noi sappiamo cosa dobbiamo fare, lui vada a studiare la legge e applichi l'articolo 44. Domani noi porteremo il grido di dolore dei nostri popoli, avremo voglia di dire tantissime cose, di fare tantissime cose, avremo voglia di gridare, di piangere e sorridere, vogliamo sorridere alle basalette del nostro Presidente che disconoscendo la legge che lui stesso ha contribuito a farlo ci invita ad altre cose per confonderci le idee, non siamo stupidi. Anche la consulta nisce mese non le manda a dire. Il Governo regionale, le istituzioni e l'Assemblea regionale non devono fare altro che attuare quello che è stata la volontà delle popolazioni di Nisce, Migile e Piazza in Merina, oltretutto sono state ratificate sia da un referendum che dal Consiglio Comunale. Tutte le altre cose, chi rappresenta l'istituzione deve essere e deve applicare semplicemente la volontà dei popoli, né più e né meno. Quindi per quanto ci riguarda di Niscemi facciamo un appello all'istituzione regionale affinché diano seguito a quello che è stato deliberato da Gia, da Niscemi e Piazza in Merina. Intanto il nuovo partito socialista Sicilia ha inviato una lettera alla prima Commissione Affari Istituzionali dell'ARS in cui chiede un'audizione urgente al fine di trattare le tematiche che riguardano la legge regionale 15 del 2015 sulle disposizioni in materia di liberi consorsi comunali e città metropolitane. Ho chiesto questa audizione alla prima Commissione Affari Istituzionali per chiamare i capigruppo, per i responsabili istituzionali, per dire che è una regione che non approva la propria legge, non porta avanti le proprie leggi.